Prima di analizzare con un'analisi sistematica dei temi e delle caratteristiche della Gerusalemme liberata, è bene avere un'idea abbastanza precisa della trama, in modo a poter coglierne i riferimenti. Partiamo dall'argomento. Nel suo complesso, la Gerusalemme liberata tratta della prima crociata. Un evento storico, effettivamente, abbastanza lontano nel tempo. Poi erano passati quasi 500 anni, quando nel 1565 Tasso si appresta a scrivere questo suo capolavoro, in quanto la presa di Gerusalemme, al termine della prima crociata, risale al 1099. Quindi Tasso scrive di un argomento storico, abbastanza lontano nel tempo, rivisitato ovviamente secondo il suo gusto letterario, vedremo in che termini, ma molto attuale dal punto di vista del contenuto, perché se al tempo delle crociate una popolazione turca, i turschi selgiuchidi, avevano invaso Gerusalemme, dando inizio a un periodo di scontri molto aspri tra turchi e cristiani, nel 500 era in corso un altro momento di scontro molto forte tra la cristianità e i turchi, in questo caso ottomani, che avevano conquistato, dopo aver conquistato l'impero bizantino, per conquistato Istanbul, Costantinopoli diventata Istanbul e la penisola balcanica, si erano affacciati sino a Vienna e i cristiani si erano uniti per, in gran parte, non tutti in realtà, ma avevano creato una lega santa per combatterla, combatterla, quindi si è combatterli con la vittoria culminante del 1571 a Lepanto, quindi il tema della guerra sacra era piuttosto sentito all'epoca, motivo per cui appunto Tasso sceglie questo argomento. Questa vicenda che viene errata in realtà però non è tutta la prima crociata, Tasso si concentra su un periodo molto limitato, che è quello conclusivo, gli ultimi giorni insomma della crociata, quelli che vedono Gerusalemme cadere. Un fatto questo è abbastanza significativo, perché? Perché si ispira all'Iliade. Nella narrazione della trama sentirete qualche volta dire, come nell'Iliade, qualche volta come in altri testi classici, ma l'elemento fondamentale è appunto, il rifiamento fondamentale di Tasso che vuole innalzare il tono della sua narrazione è appunto il più grande dei poemi omerici, dal suo punto di vista, in realtà altri poveriscono l'odissea, che è appunto l'Iliade, comunque il poema bellico per eccellenza. E per questo ne riprende alcuni aspetti. Come l'Iliade non trattava tutta la guerra di Troia, ma solo il 51 giorni, 51 giorni culminanti, quelli della morte di Ettore, così anche la Gerusalemme liberata tratta solo di una parte della crociata. Inizia, dicevamo, al sesto anno di guerra, quando Dio si accorge che i crociati non stanno avanzando come dovrebbero verso Gerusalemme, e anzi si stanno lasciando distogliere da interessi personali. Hanno già conquistato diverse città, per esempio Antiochia, la più importante era Antiochia, ma anche tutte quelle diverse città che si trovavano nella penisola anatolica e fino all'attuale Siria, ma esitavano prima di compiere l'ultimo salto, quello per Gerusalemme. Pertanto manda l'Arcangelo Gabriele in missione, quello dell'annunciazione, da Goffredo di Buglione, per esortarlo a ricominciare l'impresa. Questo Goffredo di Buglione è un personaggio storico, è effettivamente il condottiero più importante della prima crociata, colui che sarebbe poi diventato re di Gerusalemme, e che in questa opera letteraria ha il ruolo di personaggio più positivo, nel senso che è l'unico dei crociati che non si lascia mai sviare, che è sempre fedele al proprio intento. Un personaggio in qualche modo perfetto, anche se per questo in realtà meno interessante di altri personaggi che adesso vedremo, che sono presi da conflitti interiori. e grazie a questa esortazione divina i nostri eroi, i crociati, riprendono le marce e cingono l'assedio di Gerusalemme. Tutta la vicenda poi si svolgerà con pochissime eccezioni proprio in queste immediate vicinanze di Gerusalemme. Cominciano i primi scontri, qui vediamo chi sono i principali eroi dei cristiani. Sono Rinaldo e Tancredi. Rinaldo è il più valoroso dei cristiani, un personaggio però abbastanza ambizioso, potremmo dire, che non ha un antecedente storico preciso, in realtà c'era un Rinaldo che partecipò alla seconda crociata, ma soprattutto ha un antecedente letterario. Rinaldo era uno dei grandi eroi del ciclo carolingio. Ovviamente non si tratta di lui, perché sono passati 200, anzi quasi 300 anni dall'epoca dei paladini di Carlo, però ha lo stesso nome. Altro personaggio importante nell'esercito crociato è Tancredi. Tancredi è un altro guerriero, anche questo è un personaggio storico, Tancredi d'Altavilla, che effettivamente prese parte alla prima crociata, e nella rappresentazione di Tasso è al centro di una sorta di triangolo amoroso, in quanto di lui è innamorata Erminia, che andiamo a vedere qui, Erminia, ex principessa di Antiochia, quindi appunto Antiochia è la città che abbiamo detto era stata conquistata dai crociati, Erminia era andata prigioniera di Tancredi, che però l'aveva trattata gentilmente, e per questo si era innamorata di lui, ma non è ricambiata, perché Tancredi ama Clorinda, una guerriera che non sa neanche chi sia lui, o meglio, sa chi sia Tancredi, ma non sa di essere amata da lui, una valorosissima guerriera, che ovviamente non è un personaggio storico, che è di origini cristiane, ma non lo sa, e combatte per i turchi. È anche interessante dire come vengono mostrati questi guerrieri cristiani. Bene, vengono mostrati a Aladino, il re di Gerusalemme, da Erminia, questa dall'alto delle mura, quando arriva l'esercito cristiano, Erminia va sulle mura con Aladino, e illustra l'esercito cristiano, non solo questi, ma anche gli altri eroi meno significativi. Questo riprende un episodio di Liliade, in cui Elena, di Troia, che appunto era stata con gli Achei, e adesso era in Troia, mostra a Priamo, il re di Troia, gli Achei, esattamente lo stesso meccanismo. Quindi un altro riferimento esplicito all'Iliade. Altro personaggio ultimo che ho citato qui è Pietro l'Eremita, un predicatore. Pietro l'Eremita anche lui è un personaggio storico, era stato un predicatore molto acceso, che aveva ispirato la cosiddetta crociata di Pezzenti, cioè quella di quel gruppo di persone prive di ogni preparazione militare, che confidando l'inito di Dio si erano spinte a cercare di liberare il santo sepolcro, ovviamente finendo massacrati. Pietro l'Eremita si era salvato e si era unito sia storicamente sia nella finzione letteraria alla crociata dei cavalieri in funzione appunto di predicatore. Ho messo anche gli angeli perché effettivamente il tasso presenta questo scontro in terra come una figura, una rappresentazione dello scontro che avviene tra Dio e il diavolo. E di fatti il primo a reagire è Satana. Nella Gerusalemme liberata gli angeli e i diavoli si schierano, combattono. Satana convoca un concilio infernale e dice sostanzialmente agli altri diavoli che non possono permettere che le armate di Dio tolgano Gerusalemme ai turchi. E questo è molto interessante perché i turchi non sono rappresentati da tasso nella loro reale identità culturale. Altrimenti dovrebbe aiutarli Maometto, no? O Allah, che poi è sempre Dio. Sarebbe un po' complicato. Invece no, vengono aiutati da Satana, dai diavoli. Cioè in realtà i turchi non sono un popolo con una sua fisionomia nell'idea e nella rappresentazione che ne dà tasso, ma piuttosto rappresentano la negazione dei valori cristiani. Lo vedremo meglio in seguito. Tra i personaggi di Gerusalemme citiamo anche Argante, il più valoroso dei turchi, e questo Ismeno, che è un mago pagano, un mago assolutamente malvagio, diciamo, che mette le sue arti magiche al servizio della difesa della città. E inizialmente vorrebbe anche utilizzare delle reliquie cristiane per le sue stregonerie. Questo dà l'origine all'inciso di Olinda e Sofrogna, perché appunto i cristiani fanno, a un certo punto sparisce in realtà questa reliquia che vorrebbe essere utilizzata. Siccome Aladino minaccia una rappresaglia su tutti i cristiani, Sofrogna dice, una donna cristiana dice sono stata io, ma Olindo, che è innamorato di lei, dice no, guarda, in realtà sono stato io, cioè si autoaccusano pur essendo innocenti, stanno per essere condannati a morte, arriva Clorinda, e riconoscendo la loro virtù riesce a ottenere per loro il perdone e poi si sposano con il lieto fine. Ma torniamo ai nostri crociati. In questo momento, anche se stanno cingendo la stella di Gerusalemme, cominciano i problemi, perché arriva l'ultimo personaggio che qui vediamo, cioè Armida. Armida che è un'affascinante maga, una donna bellissima, bellezzamente straordinaria, appena arriva tutti si innamorano di lei, un po' come di Angelica quando si presenta all'inizio dell'Orlando innamorato, e si presenta però come, di nuovo in maniera fallace, ingannevole proprio come Angelica, come una dama in cerca di aiuto, in quanto sarebbe stata una principessa di Damasco e chiede aiuto per essere riportata sul suo legittimo trono. E tutti i cavalieri fanno una gara per volerla aiutare, tant'è vero che ne vengono estratti dieci che la seguono, ma altri poi la seguiranno di nascosto, indebolendo fortemente l'esercito cristiano. Questo era lo scopo dell'inganno, e difatti tutti questi vengono impregionati sul suo castello fatato sul malmorto. Nel frattempo anche Rinaldo si deve allontanare, perché? Perché ha litigato con un altro crociato, Gernaldo, e l'ha ucciso, e per questo è costretto a allontanarsi. La situazione quindi non volge molto bene per i cristiani che tra l'altro vengono sfidati, cioè in particolare la guerra è una sorta incerta e Argante sfida il più valoroso dei crociati rimasti, cioè Tancredi, che accetta la sfida, il duello però non si risolve. Anche questo è un richiamo calco dai grandi duelli dell'Iliade. In Lidea intanto si fermavano le ostilità per dare luogo a un duello. Duello che peraltro non era mai risolutivo, non si portava mai la morte di uno e i due contendenti. I modelli possono essere quello di Ettore contro Agliacce e Telamonio oppure quello di Paride e Menelao. Fatto sta che Tancredi e questa è l'immagine che ho scelto del Guercino viene ferito ma Erminia nottetempo esce per andare a curarlo, lei aveva grandi capacità curative, esce tra l'altro vestita travestita con le armi di Clorinda per essere lasciata passare ma scambiata appunto per Clorinda è costretta a fuggire a fuggire e si troverà tra i pastori e di Diglio e di Erminia tra i pastori anche uno dei passi più famosi. Tancredi nel frattempo abbandona anche lui il campo perché crede che appunto questa donna sia Clorinda e la insegue. In questo modo tutti i più valorosi guerrieri hanno abbandonato il campo cristiano. Tra l'altro anche dei rinforzi vengono intercettati da Solimano il sultano dei turchi questo che mette in ulteriore difficoltà i cristiani. A questo punto per fortuna arrivano i tornano tutti i cavalieri imprigionati d'Armida perché li ha liberati Rinaldo che in qualche modo si vuole riscattare. Disgraziatamente lui è rimasto però prigioniero di Armida prigioniero e innamorato ben felice di Armida che l'ha portato nelle isole fortunate però quantomeno ai cristiani sono arrivate forze fresche e con l'intervento anche diretto dell'arcangelo Michele inizia in qualche modo la riscossa inizia la riscossa e comincia l'assalto a Gerusalemme grazie in particolare a una torre una torre d'assedio che molto minacciosa per i musulmani deve essere assolutamente distrutta. Notte e tempo i due più valorosi dei turchi cioè Argante e Clorinda escono per distruggerla Clorinda peraltro non ha le sue armi si mette un'altra armatura nera come la notte riescono a distruggere ma vengono intercettati se Argante riesce a tornare in città Clorinda no viene non riconosciuta viene inseguita dai crociati in particolare a Tancredi che in duello la uccide solo quando è moribonda la riconoscerà in tutto questo lui è ferito nell'animo oltre che nel corpo e è prossimo alla morte però dei crociati passano di lì e lo salvano a questo punto si pone il problema di ricostruire la torre ma Ismeno ha incantato l'unico bosco disponibile serve il legno per rifare la torre la selva di Saro questo bosco ha un incantesimo tale per cui chiunque si avvicini entri in questo bosco hanno ha delle visioni terrificanti perché sono le diciamo questo bosco ha la capacità di cogliere ciò che più intimamente turba gli animi umani per esempio Tancredi quando va a aprire il diciamo a cercare di abbattere gli alberi per rompere l'incantesimo crede che questi siano Clorinda che l'accusa di colpirlo quindi fugge urlando l'unica possibilità è richiamare Rinaldo e effettivamente ci sono due personaggi Carlo e Ubaldo che con l'aiuto che riescono a spostarsi con l'aiuto di uno scudo magico insomma poi vedremo questo posto riescono a raggiungere le isole fortunate e liberare Rinaldo e la sua soggezione a questo punto con il ritorno di Rinaldo in sulla presso Gerusalemme si può arrivare all'episodio al finale felice per i crociati ovviamente non per i musulmani visto che Gerusalemme sarebbe stata conquistata e saccheggiata ma prima di ogni altra cosa Rinaldo compie un rito di purificazione sull'alba proprio all'alba momento che evoca la purificazione una nuova vita insomma sul monte Oliveto quello dell'ultima notte di Gesù insomma e lì compie un rito di purificazione e a quel punto è pronto a rompere l'incantesimo della selva di Saron proprio perché non ha più estendosi purificato avendo superato le sue contraddizioni interiori è puro e può interrompere questo incantesimo malvagio i crociati costruiscono una nuova torre e possono finalmente dare l'assalto a Gerusalemme proprio mentre arriva un esercito di rinforzo un esercito che arriva dall'Egitto nonostante questo doppio attacco delle forze egiziane e delle forze di Gerusalemme che tentano il contraattacco i cristiani riescono infine a a trionfare anche grazie ai prodigi di valore di Tancredi che finalmente riesce a concludere il suo duello con Argante vincendolo di Rinaldo che sconfigge Solimano e insomma anche Emireno che poi il capo non l'ho citato qui perché non è così importante il capo esercito egiziano viene viene sconfitto e viene ucciso da chi? da Goffredo che non dimentichiamo c'era sempre stato lui in fondo lui l'eroe principale secondo Otasso e in questo modo finalmente il vessillo santo sventola su Gerusalemme